La seconda serata del Festival di Sanremo edizione 2016 vede esibirsi 10 cantanti big in gara. Preceduti dall'anteprima del comico Sergio Friscia, i campioni che si esibiscono sono, in ordine d'uscita, Annalisa Scarrone con il diluvio universale, Di Zero Assoluto con Di Me e Di Te, Elio e le Storie Tese con Vincere l'Odio, Francesca Michelin con Nessun Grado di Separazione, Neffa con Sogni e Nostalgia, Dolce Nera con Ora e o Mai Più, Patti Bravo con Cieli Immensi, Clementino con Quando Sono Lontano, Valerio Scano con Finalmente Piove e Alessio Bernabèi con Noi Siamo Infinito. Nella seconda serata di mercoledì inizia anche la gara per la sezione Giovani Promesse che vede quattro degli otto finalisti in gara scontrarsi ad eliminazione diretta. Ricordiamo che gli otto finalisti sono Tra gli ospiti in scarretta mercoledì sul Teatro Harrison ci sono la stupenda attrice Nicole Kidman, Eros Ramazzotti, Nino Frassica e Lost Frequencies. Grazie a tutti.